Udc Uffici della cittadinanza È necessario collegarsi al sito istituzionale del Comune di Perugia www.comune.perugia.it e selezionare Aree tematiche. Sotto alla voce Servizi sociali selezionare il pulsante Uffici della cittadinanza. Cosa sono gli Udc? Gli Uffici della cittadinanza sono servizi di assistenza sociale essenziali, pubblici e gratuiti, presenti nei territori dei Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, rivolti a tutta la cittadinanza. Quali servizi sono offerti da gli Udc? Gli Uffici della cittadinanza offrono servizi finalizzati a Assicurare prestazioni necessarie a ridurre o a rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale. Favorire l'attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale con l'accompagnamento e l'invio del cittadino alla rete di servizi sociali. I servizi offerti dagli Udc a chi sono rivolti? Gli Uffici della cittadinanza sono aperti ai bisogni di tutta la comunità e offrono interventi di consulenza e sostegno sociale a Persone adulte, famiglie e minori, persone anziane, persone disabili, persone straniere e migranti Persone adulte in condizioni di disagio sociale senza fissa dimora Famiglie e minori per interventi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità Persone anziane che vogliono orientarsi nell'offerta di servizi, interventi, risorse presenti nel nostro territorio Persone disabili per informazioni sulla rete dei principali servizi sociosanitari, agevolazioni e progetti Persone straniere e migranti per i servizi sul tema immigrazione offerti dagli sportelli sociali nei campi informativo, economico, sociosanitario, demografico Puoi prenotare un appuntamento con assistenti sociali o educatori professionali dell'Ufficio della cittadinanza più vicino a te Grazie per la visione!